Musica Un bottino importantissimo per lui, 13 gol in A e 11 assi I tomori e sale makers ci ha fatto capire qual è l'umore Maldini, la prima occasione vera di questa stagione è capitata sui piedi di Daniel Maldini che come la grafica aveva anticipato corruva di terzino destro l'azione offensiva della Pro Sesto e allora ben a sera è Daniel Maldini è 16 metri, entra in età giravolta e poi è Daniel Maldini per venire dentro a campo nello spazio per Kronic interessante la giocata del 33 gli ordini del professore, di tutto lo staff tecnico e atletico del Milan quando siamo giunti al 22esimo minuto Raffaele Aopunta scara il solito motta la chiusura perfetta da parte della difesa del Milan che può ripartire Benasser in posizione sostanzialmente di punta cambia ancora con Maldini Kronic ancora per il 27 chi apre sulla si va poi Benasser che si gira verticalizza rapidamente tra le lì il solito giubilato il pallone di Cegabbia che è rientrato a saltellare sul campo Daniel Maldini il controllo eronica esterno esterno che aveva messo in mostra se non sbaglio tra l'altro lui che segnò nel campo centrale questa volta di Emeka in mezzo a Carvin la chiusura la chiusura E' un'altra parte. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti